Gli spartani si riuniscono dopo il GF VIP, loro anche Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. Ieri sera si è svolta la prima riunione degli spartani dopo il grande fratello VIP. Mancavano all'appello gli incorvassi e Luca Onestini, gran parte del gruppo di amici che si era formato nella casa di Cinecittà si è riunito per una cena a ritmo di musica che si è conclusa con il romantico gesto di Daniele Dal Moro per la fidanzata. Oriana Marzoli. Quest'ultima e già Elede Dona hanno ripreso e pubblicato diversi momenti della serata, con loro c'erano anche Giulia Salemi. Voce di Twitter dell'edizione delle reality che si è da poco conclusa, con il fidanzato e noto volto televisivo Pierpaolo Pretelli. Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli ieri sera si sono divertiti con alcuni degli spartani. Gli ex concorrenti del GF VIP così soprannominate durante l'avventura nel reality. Oriana Marzoli li ha ripresi tra le stories ed entrambi hanno mandato un bacio alla telecamera dell'ex VIPona. Dopo la serata a ritmo di cibo e musica, si sono scattati una fotografia di gruppo e insieme hanno registrato un video nel quale urlano insieme, un beso carigno. Frasi usata dalla Marzoli diventata iconica. Molti utenti su Twitter, fan del programma. Hanno notato che la Salemi abbia scelto il team spartani a quello dei persiani per uscire e divertirsi. Ad unirla al gruppo in ogni caso, sarebbe anche l'amicizia con Alberto De Pisis, l'influencer sin dall'inizio del programma raccontò di conoscerlo. Assenti all'appello ieri sera Edoardo Tavassi, Niccoli Incurvaia e Luca Onestini. E' stata Oriana Marzoli con un tweet a raccontare perché gli Incurvassi non fossero presenti alla reunion, entrambi si trovano insieme a Roma. Non è a Milano, ma abbiamo parlato ieri con lui al telefono, le parole dell'ex VIPona su Twitter in risposta ad un fan. Non è un animal, răbdător, pragmatic, dar vezi tu? Tre'i să depășesc plutonul cu fiecare text pe Mafia, parasiții, dragonul, maxi, ghiespe. Chimie, rimaru, spike, buia, si, shwapo, grasul, nimeni altul, delvede sau carbo. Tre'i să vă mănânci vers cu vers card intens, tre'i să crezi, crezi ce vrei să crezi. Eu vă respect pe toți, dar focusez pe nivelul următor. De zici că mă bar cu bossul, la cât de urât sunt, cum să vă iau cu frumosul? Metafore, hiperbole, le obțin prin alchimie. Când adun cuvinte din domn, mă pun, le pierd la o mie de grade Celsius. Să rămână spus și să se știe, nu-i nimeni cel mai bun, dar evoluează cel ce vrea să fie unul.